democrito 460 a 370 avanti cristo filosofo greco antico allievo di leo cippo tra i fondatori dell'atomismo in frammenti dice preferirei trovare una sola causa che avere il regno dei persiani forse la causa era nascosta in un tutt'uno nella vita di democrito nelle sue domande e nel regno dei persiani